E' stato completato a Taranto il ciclo di deblattizzazione e deratizzazione a cura di Acquedotto Pugliese. I tombini sono tutti segnalati con uno scotch dove c'è scritto Acquedotto Pugliese, quindi significa che sono state effettuare queste opere. Con il protocollo d'intesa del Comune di Taranto abbiamo stabilito di anticipare il secondo ciclo, il 15 luglio. Se eventualmente ci sono criticità in questo periodo basta chiamare il numero verde dell'Acquedotto Pugliese 800 735 735.